Non si esaurisce la polemica dopo l'interrogazione che Pietro Fazzi e Nicola Bucchignani hanno presentato al sindaco Tambellini riguardo lo spostamento del padiglione di Lucca Games dall'ex Campo Balilla al Polo Fiere. Dopo aver incassato il no secco da parte degli operatori del centro storico ed in particolare da Giovanni Marettini della Ascom, l'ex sindaco e consigliere comunale Fazzi non si è certo perso d'animo. I dati dai quali parte la richiesta dell'opposizione sono principalmente due. Si parte dalla provvisorietà della soluzione del padiglione dei Games sotto gli spalti delle mura che doveva spostarsi dopo l'ultima azione del Polo Fiere di Suebano per arrivare al costo diventata abnorme della tenso struttura per consentire l'accesso ai visitatori dei Games, quei 500.000 euro che hanno fatto steabuzzare gli occhi ai fazziani. Dopo la posizione presa dalla Ascom, Fazzi non ci sta a ritrattare quanto chiesto ed anzi rilancia. Ecco pronta la raccolta firme che a bravissimo pretirà con la richiesta di collocare al Polo Fiere di Suebano la parte dei Games della prossima edizione 2012 di Lucca Comics & Games. Infatti si ritiene che sia ingiusto continuare ad adottare la collocazione al Balilla in un momento di crisi dei conti. Soluzione che per Fazzi è presa più per abitudine che per reale necessità. Spostare i Games al Polo Fiere consentirebbe inoltre di rivitalizzare anche il quartiere di San Concordio. Spostare i Games